Previsioni per sabato 6 luglio. L'alta pressione rimane a protezione della Lombardia, garantendo un'altra calda giornata di sole. Da segnalare a qualche addensamento pomeridiano su Alpi e Prealpi, con possibili isolati temporali tra Orobie e Garda. Tra sera e notte lieve cedimento della pressione, per infiltrazioni di aria più fresca balcanica, con qualche temporale su Prealpi e Pianure, specie orientali ma del tutto isolati. Temperature stabili o in ulteriore lieve aumento nei massimi, fino a 32 gradi. A Pavia non sono previste piogge. Durante la giornata di sabato la temperatura massima registrata sarà di 33 gradi, la minima di 20 gradi, lo zero termico si attesterà a 3950 metri. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da est-nord-est, al pomeriggio deboli e proverranno da est. Allerte meteo previste AFA. Previsioni per domenica 7 luglio. La pressione cede parzialmente sulla Lombardia per l'ingresso di correnti orientali più fresche in Valpadana. Giornata variabile, con maggior nuvolosità a ridosso delle Prealpi al primo mattino, in esaurimento e seguite da ampi spazi soleggiati. Nel pomeriggio formazione di nuovi temporali sparsi sui rilievi, specie prealpini e aerobici, in estensione discontinua alle pianure tra sera e notte. Temperatura in lieve diminuzione, massime comunque prossime ai 30 gradi, venti deboli. A Pavia, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata. Sono previsti 3 mm di pioggia. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30 gradi, la minima di 21 gradi, lo zero termico si attesterà a 4000 metri. I venti saranno al mattino deboli e proveranno da nord-est, al pomeriggio deboli e proveranno da est. Allerte meteo previste, AFA.